Oh, guarda con chi c'è in vaso! Ma dai! Molisci! Fantastico questo! Luca, Luca, c'è appena invaso Cristo. No, non sto scherzando. Hello! Fantastico però! Ah, ho capito, c'è. Ah, pensavo che avessi ucciso. Ho ucciso Cristo! La cosa mi deve preoccupare. Quindi siamo condannati, finiremo all'inferno di sicuro. E scusate, ho dovuto fare uno screenshot per Hai ucciso Cristo, perché... Meritava. Ok, quindi... Ma adesso la gente ne parlerà per duemila anni? No, almeno duemila sedici. Ah, ok. Almeno. Minimo. Minimo. Ce l'hai uno scudo contro il fuoco? Non lo so, guardo. Ultima idea. Anche se devo ammettere che, secondo me, patisco più il fisico del fuoco, ma proviamoci. Se ce l'hai il mio, quello del simbolo del drago? E quello che ho adesso adesso? Mmm, no. Quello dell'aquila. Oh, scusa. Ho sbagliato animale. Col simbolo del drago? Sì, ce l'ho. Che parla 100 fisico e 88... Cos'era? Eh, 100 fisico e 89 fuoco. Eh, no. Allora non è ancora questo. 100 fisico e 89 fuoco. Va bene, ho giudicato. Sei pronta ad entrare, sì? Sì, sì, sto già spamando. Io corro a prendere le mie anime. Ok. Ahia, l'altro mi ha coriccato. Oh, minchia, questo non mi fa arrivare. Non dovrebbe essere proprio... Più un problema. Ok. Ma secondo te ci droppano il suo coltellino che mi sembra una figliata pazzesca? Credo che sia il coltellino per i perry. E' schippabile questo, se vuoi, comunque. Oh, davvero? Ah, scusate. A figurarti. Però è fichissimo sto boss, mi piacissimo. Arriva, arriva, arriva. Bravo, ripato. Tieni l'occupato. Vuole te adesso? Nooo. Merda, l'ho mancato. Aia. No, mercoledì, stavo vedendo. Eh, mi sa che. Grande. Signore dei tizzoni distrutto. Grazie, Ripa. Chego. Yeeey. Certo che è anche facile non morire così. Vai in giro con qualcuno che con la sola presenza uccide la gente. Con la sola presenza? Ebbene sì. Eh sì. Uccide anche Cristo. Non so, ci fanno una maledizione addosso. Esatto. Mi sembra adeguato, devo ammettarlo. Non sempre si può dire una roba del genere. In effetti. Eh. Tutto qua, ci sono una cosa. Scendiamo il falò. Che le fiamme ti guidino. Ho preso l'abitudine di votare tutto, tutti i messaggi carini che vedo. Ma che cazzo è il momento che c'è di nuovo Twitch che lagga bestia. Ma che porca. Cosa cazzo è successo? Cosa ho fatto? No, calmati Isa. Gestisci l'ansia. Perché se ne va? Non andartene. Cosa? Io volevo vedere che cos'eri. Il... L'altare. Volevo vedere che cos'era l'altare. Tu vacci. Vieni. È un posto bello. Ah, non qui. Ok. Sì, è talmente bello che sulle scale ci sono più pozze di sangue che scalini, ma vabbè. Catacombe di Carthus. Vuoi che mi faccio trovare lì anche? Ah, perché giustamente adesso abbiamo cambiato area. Solo che devo passare da quel falo lì, quello che è appena acceso, e devo venire giù. Eh, esatto. Non me vengo giù, io aspetta. Fa, se vuoi. Sì, sì. Così almeno recuperi un po'. Cioè, recuperate. Guarda quante... Guarda quante cicce che ci sono da prendere. Perché non mi ricordo dov'era il primo falo qua, quindi. Ok, te lo metto davanti alle scale dove sei scesa. Sì, quindi... Davanti alla porta, proprio. Tipo due metri oltre la porta. Eh, ti ho già trovato. E allora. Nooo. Nooo. Eh? Ho una nuova gestor. Mia spada. Fichissima, la voglio anch'io. Cosa ho trovato? Una gestor nuova. Quale? Hai la mia spada. E la mia ascia? E la tua ascia, è vero? Aspetta che... Ah, non ce l'ho. In compenso ciò. Altro che gesto dell'ombrello questo. Ma perché, lo voglio anch'io. Tu, dammi quella gestor. Nope. Allora, io seguo o dimmi se devo andare avanti o meno? Va bene. Cosa si tocca se ha la testa? Si picchiava sulla testa, scusa. Si dava la carica. Belletto di cartus. Cos'è un belletto di cartus? Ma, si risuscitano? Vado avanti. Oh, questo ha gli occhi rossi ed è invisibile. Splat. Si, distrugge. Hai detto che l'ho droppato? Maledetta. Ok, dietro. Mi sa che la bimchia un po' in effetti. Ma, che cazzo? Il pezzo che ci sta sparando. Ah, che bastardo. Ok, il tempo che selezionavo i cucri, Elisa. I? Ah, i cucri. I cucni. I cucni, esatto. Sento gente che corre qua. Anch'io. E qua è già senza testa. Poverino. E ti è riuscito a schivare comunque abbastanza bene. Esatto. È perché hanno il sesto senso. I sensi di scheletro. I sensi d'osso. Esatto. I sensi di scheletro. Non c'è niente. Non c'è niente. Non c'è niente. Andiamo su. Andiamo su prima. Andiamo su. Dimmi tu. Anche qui corrono. No. Occhio. Ho capito, va. Sì, sì. Qua conviene andare di... Oh, droppato. Belletto di Carthus. Ma mi stanno dicendo che mi devo truccare? È questo che mi stanno dicendo? Che sei abbastanza bruttetta. Sono bruttina? Eh, effettivamente. Guarda, sono così carina e cucolosa. Guardaci. Ma... Sì. Trappola? Trappola più avanti. Ok. Pianino. Pianino. Trappola. Pizza Super 3. Ecco, infatti c'è una... Un'animella. Perché vado io prima? No. Sento già roba che si muove. Anima di cavaliere senza nome. C'è un quello lì che ha gli occhi rossi, quindi sarà cattiverrimo. Ehi, lei! Oh, porco tifo. Hai visto che movimento c'ha fatto? Ma stia fermo, lei. Gestisca l'ansia. Pareto illusorio più avanti. Prova attacco. I messaggi che... Non ci credo nemmeno se lo vede. Pareto illusorio più avanti. Cazzo sì? È la prima volta che vedo un messaggio con la parete illusoria e c'è veramente una parete illusoria. Sì, effettivamente sono... Sono abbastanza rari, effettivamente. Cioè, sono più i messaggi... Trulloni. Stupidi, finti, che... Esatto. E volevo buttarlo giù, ma... Esiste un calcio, giusto per... Ah, è vero. Ma non mi viene mai da farlo. C'è più niente, c'è più niente, c'è più niente. Ok, andiamo. Vedi anche tu un pezzo dello scheletro che sta girando su se stesso infinitivamente? No. Guarda. No. Vabbè. Sì, Isa. Sì, sì. Sì. Ma è vero. Alla mia salute. Il signore. Stia qui. Sì, no. Stanno continuando a darmi belletti, quindi veramente mi stanno dicendo qualcosa. No, merda. Quando è in backstab è inutile che danci, tanto è immune ai danni. Non so, solo che ci mette un po' a... Ci mette un po' a caricare e... Così. La vita è brutta. La vita è YOLO. Eh, la vita è YOLO. Allora, andiamo prima di qua, va? Va bene. Di quello dove siamo arrivati? No, non è da quello che siamo arrivati. Ma perché questo non prende danni? Adesso li ha presi, madonna, se li ha presi. Ma... Stia giù. Messere, stia giù. Direi di scendere. Ho già perso l'orientamento. Lascia perdere. Questo? Questo... No, questo bisogna parlarci. No, perché sei triste? No, non l'ho visto. No, non l'ho visto. Oh, povero patate. È rimasto da solo. Questo? Lucertola più avanti. Buon sciotti delle lucertole. Ma vergognati. Ah! Ah! Eh, vuole te? Occhio. Può esplorare. Vediamo se riesco a... No, non riesco. Non ci arriverai mai. Esatto. Quindi, nope. Vieni indietro. Ok, aspetto solo... Ok. Aspettavo solo che tirassero. Ho una fioreccia gigante piantata nella spalla. Ok, quindi... Qui c'era una scala che dobbiamo ancora salire. Vado tranquillo. Due per volta adesso. Vabbè. Oh, uno ci prova. Non so dove andare. Se andare prima di qua o prima di là. Ma quando? Dove siamo entrati? Yep. Va a cagare. Vedi che ho già perso il senso dell'orientamento. L'ho detto io. Ma perché è un giro tutto fottuto qua, per quello. Sì, sì. Parati con la spada. Avete visto il risultato. Giusto per fare un po' il vandolo. Ti copri di cadaveri? sìiii nel momento ci volavo e qua c'è ancora un bel volo no qua non c'è niente io dovevo tornare da dove siamo venuti io prendo le scorce mi sono appena resa conto che sto andando in giro con 35.000 anime sono un giudotico del male Scegli tu Di là Dove? Di qua? Qua non c'era niente Di qua c'era il tizio che mi ha chiesto aiuto Non è vero E di che mi sono già persa Ah qua c'era il tizio che mi ha chiesto aiuto Quindi qua non c'era niente da andare Di qua andare Giusto? Giusto Ehi Me ne sono dimenticata Anch'io Vieni qua Ho visto un attimo la barra della vita qua in manalto Occhio E qua Eccola lì Che venga lei Che venga madama che venga No Si è caccato sotto Si è caccato sotto Allora qua era un altro posto in cui non c'era niente Giusto? No e invece ci sono ancora degli scheletri vivi Quindi c'è qualcosa Cosa cazzo succede? Scusa Isa lo sapevo ma l'Ulz Super Shade Porco schifo 35.000 anime Recuperi le recuperi Sì beh Sarà meglio E ti è cagato il cazzo che spoileravo? Bene muori No no ma hai fatto bene Perché io tanto la prima volta che ho visto quella merda di pallina ho fatto la stessa fine Quindi l'Ulz per me Io sono andato nel nostro posto dove ti ho evocato prima Io ho già messo il simbolo Un pochino più avanti ma sempre lì Ok Ma Fuck Che è solo lì eh guarda le vedo Prese de palla Lei non rompa le valle No era di qua Non ha capito Ma No Qui Ok Quello si spappola proprio Non dimmi che glielo non l'ho droppato Yep Sì Gambali per Sì sì va bene Sono in mezzo alle catacombe Pazienza Eh le esploro Cosa si faccio normalmente? No Dica a lei Non mi ricordo già più dove bisognava andare per andare lì Ok ora ti do un aiutino va Giù di qua Era qua Ok Semplice e veloce Uhu Uhu Ok Dove bisogna andare per attivarla? Fino dove? Ok No 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 ma cazzo Non l'hai prese le anime vero? No Addio Pensavo così torna indietro Ma porca trottola Ho appena perso 35.000 anime Sì Isà suggerimento Stai su un lato delle scale Eh ma io pensavo di correre Riuscire a correre indietro Prima che lei cadesse Che palle Eh vado solo un attimo a prenderai Luca Quale boss? Eh sì Guardiani dell'abisso sì Giù c'è la fine del corridoio Quale corridoio? Quello che ce ne sono tanti e poi ce n'è uno Sì Allora venite lo facciamo assieme Tanto io devo diventare umano Ah volentieri Allora arrivo lì aspetta Sei davanti alla porta del boss o dal falò? Sì Sono dal falò Ma tu sei marcio Quindi puoi evocarne solo uno di noi No no sono Sono solo marcio 75 Solo Sei marcio Poi se Se non sono Se non sono troppo marcio Non vedo gli altri Vi Vabbè Io l'ho già messo Ah c'è Tenue ombra di Londor Che cazzo è Tenue ombra di No Londor Di Gondor Io l'ho messo comunque Di vicino al falò Anch'io fino al vicino al falò Ma no Ma no I cigoloni comunque Ebbene sì Luz per te Qualcuno mi evoca Oh shit Oh shit Devo usare Le dita del cazzo Allora magari E puliamo un attimo la strada Poi Evokisa E poi corriamo dentro Che scusa? Per l'atlete se ti invadono in due È un casino Too late Ok Vabbè ti difendo io Va bene Vabbè che ho ucciso Cristo prima Vuoi mettere tanto? Sì non puoi andare a me Piencià Puoi fare qualsiasi cosa Vabbè Isè sei Seda Fermati immediatamente subito Vabbè veno Vabbè Ah Caccia la roba Caccia la ci ... Ah tu vuoi le manine Ne ho solo tre Lascia oggetto Occhio! PORCA BUTTA! Gli stunni? E' più caldo riesci a critarli, ma non li crita Guanti, un altro! Vuoi dei guanti ripa? E poi i guanti forse mi mancano Ne ho appena droppato un altro, perché me ne droppano solo quello Me ne molli uno? Lascia oggetto Compra e vendita, io ho altra roba se volete Anch'io Ho 5 sigilli oscuri, se qualcuno ne vuole uno Non posso lasciarli, peccato Altra roba... Non roba più avanti, ovviamente Io sto lasciando degli oggetti random Gli ultimi due, questi qua, sono uguali Questi due qua Questi sono... No no, guanti evangelista e pantaloni evangelista Questi due sono uguali Lisa prendete questi Pantaloni evangelista forse li lo so Infatti li avevo già Infatti li avevo già Infatti li avevo già Infatti li avevo già Ah, Lucchino No, non ce li avevo No, non ce li avevo già Gli ho lasciato un'arma Che tipo di arma è? Marco Giusto? Prendilo te Si Da resta Quello di prima Eh beh, piglialo Aspettate Ve lo porto io Ve lo porto io Ma è più avanti l'arco dei draghi Eh, di solito... Eh, infatti l'ho gioco No, non fatevi vedere Ve lo portavo No, scomposa Non avevo capito Nooo, sono riusciti a uccidere i due grossi Eh, ma uno l'ho segato io qua Uno l'ho segato con noi Ad algo di merda Eh, vabbè, allora Qua dei nemici ho Non gli ho ancora fatto sanguinamento Dio santo Ma... io faccio Puccia, puzza, che puzza Ok Pulito No, ce ne sono ancora uno Un'altra lingua palli Ho 5 lingua palli Le posso restappare Le restattare Cioè, non sono neanche arrivati Madonna Vai Ehi, 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 ehi Ok Ok Ai momenti mi avvelenavano sti strunz Oh, i momenti... Già a bere, forca Madonna che... Per quanto lag C'è il pezzo fatto? Ma sta laggando a bestia? No Uah Minchia, non riesco a prenderlo Doppio! E doppio backstay va un boss Sì, sì Quindi meriterebbe Sì, è visto Oh, c'ho Ah, mi ha alzato l'altro Porca putta Ecco Tutti e tre su di me Buono E non devi picchiarli gli altri Concentrati su uno Merda, era finito Eh, anche Luchino Non era finito Anche Luchino era finito Era finito nel male Nella malla Sì, metto di nuovo i cosi Cinque solo Ne so più cinque Fa umani pari Venticinque Isa quante? Come ne darne venticinque? Io ne ho sette Eh, Isa te ne lascio qualcuna Ah vabbè, ma me le compro Se solo non avessi perso le trentacinquemila anime Cazzo Vai tranquilla e te ne mollo qualcuna Cazzo, quindi qua sono già a marcio Posso evocare Isa? Ma il mio simbolo mi hai evocato tu che hai sparito? Sei stato evocato in un altro mondo Sì, ho provato Ok, lo sai Qualcuno ti evoca Però non posso evocare l'NPC che c***o qua, uff Dov'è? Eh, beh Io sto sentito No, no, no Se muoio di nuovo Vado a pulirmi la fettina penale Poi andiamo Eh, aspetta Isa dov'è? Isa adesso arriva lì Aspetta, Lucchino Aspetta un attimo Isa, piglia Ma vabbè ma... Non era necessario Ne ho ancora più di Lucchino LULZ Ma siete delle merdi Sì, non ne ho ancora neanche comprate dai vendola Neanch'io Ma neanch'io ne ho mai comprate però Vieni dai Poi cosa? Ma perché lo fermi subito scusami? Perché tanto l'altro va da solo Così più probabilmente lo uccidano Eh, ma vabbè ma almeno ti fa la pulizia no? Sì, ma è preferito ammazzare quelli la che è... Vi state imbriccando sul... I know Come cazzo hai fatto a criptarlo? Andandogli dietro? Ripa qualsiasi cosa Eh, hanno giusto un culo Saranno 20 minuti che c'è a criptarlo C'è questo qua bianco che è sospetto as fuck? Nooo, gambari oscuri Ma che cazzo? Cosa c'è che non va? Ah, un anello Dovevevarlo anch'io aspetta Oh nooo C'è? C'è? Ce l'ho più lungo No, non me lo dà l'aspetto del fantasma No, sei tornato umano Non sei più marcia Ah Dai, vieni No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tutto tuo Questo dal suo quadro è veramente uno stupro se per caso... Va di uno di troppo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Proviamo... Vogliamo... Alla corsa! va bene eh che schifo siamo stati inviolati certo battaci ops, mi ho backstabato uno vabbè dove fai? qua che palle quando fa il backstab ma è già troppo lontano non lo prendi è vero c'è uno che c'ha con qualcuno e prende me ovviamente non mirava a me ma mi ha preso non mi ha preso un po' sbagliato molto bene perchè si è messo in mezzo è andato è andato è andato è andato eh l'avete già visto? si questo è veramente figo questo boss è veramente figo si ok slide oh bravo rip i palottini fanno le due botte esatto merda dai una botta a testa aia e con me o io me aia eeeh easy easy fratello Ok Basta, basta Isa, basta E lo so ma è un casino, io continuo ad andare finchè non muore Fittizioni di un signore Fittizioni di un signore Fittizioni di un Sir Ahah Trovo una mausa, così vengo un po' in compagnia Grazie a tutti Ciao Cripa, vado solo un attimo a casa a usare quelle anime prima di perderle A usare il tizione di perle, esatto esatto Tutte queste belle cose, dare i tomi alla tizia Tutte queste belle cose interessanti Io ho fatto una livella Che ogni tanto bisogna pur sempre fare, giusto? Sì Ma il tizone non è uno di quelli da dare a questo tizio qui Il tizone non è questo... Che tizone? Che cosa? E che tizio? Ah nooo E niente Uh, dia un po' Lucchino che ho già 32 medaglioni solari Quindi... Lui sa... Chi non ripa dice che ne ha già 32 di medaglioni solari I LULZ Ok, io vado a mettere il simbolo dove l'ho messo prima Io arrivo eh Io arrivo eh Io arrivo eh Um... non ho nessun anello decente oh mamma mia cosa? niente volevo fare una livella ma ho solo 9.000 anime e me ne servono 13.000 me ne vogliono già 28.000 quindi I know this feel ah è il ladro? cosa? greyheart è il ladro? greyheart si è quello che ha liberato nell'accetta nella cella no 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 capito io pensavo che fosse il tizio che guardava la cella della monaca no ancora mi sfugge il nome ma non è lui eh sì ciao ciao già che siamo qui compriamo un po' di frecce ma sì devo spendere un po' di ciccio ciao scrappy ti sei infugnato a fare bot discord in un modo troppo grave buonasera intanto scrappy buoni bot quando non sai cosa fare ti metti a programmare bot vero? vero? certo e c'è qualcuno che viene a morire qui io sto prendendo ammazzate le tombe che ci sono qui eh stai cercando di svegliare i morti? buoni bot un camortaccele di scordapi potevo giocare eh non ti avevo mica detto a noi di farlo mi rompo la testa teschi sera diego 11 pagine di tor 10 con il cron normale devo avere troppe pagine questo per la tesina secondo me a meno in che carattere perché se è scritto in carattere 72 sono un po' poche sto arrivando va bene no ho sbagliato farò un corpo schifo ascudate i pigli ascudate oh intanto poi ciocchiamo un po' in senso pagine aumenta esplorazione informazione ah in quel senso potrebbe essere un po' pesante si 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 due ore a esplorare internet l'internet non indicizzato l'internet non è che mi si sfascia la mazza si aspetta ancora culo mi evoca e incaricamento ho trovato di quella roba immagino c'è la un minuto per parlare di una scorciatoia era un sì o no dimmi sì mi vedi aspetta ripa tutte cose illegali almeno per quel poco che ho visto eh no trovi solo quello paura trovi tante cose di quello fico ok ci sono mi vedi la scorciatoia più avanti op occhio a non andare tanto avanti op ah e ti eviti il ciocco della della cosa che rotola non te lo dico però se non altro riesce a prendere sti due stronzi alceri quello lì c'è la spada sbrirucicchina aspetta che lo riesco no 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 aspetta perché? yolo aspetta un attimo non scendere va bene tanto ci sono ancora le mie anime lassù ok ma risale anche si adesso vieni pure qua non andare tanto avanti di nuovo o magari aspetta o vieni indietro indietro ok per passare la prova metto sul disco a sentire anche un vostro parere va bene ok vai a prenderle corre le veloci poi però ti metti tipo qua hai capito? sì e ci sto facendo a fare un po' di scorso soprattutto vedi così non ti prende dove sono io adesso per dire sì sì aspetta che torna su ha fatto un po' di fatica qua aspetta lì un attimo ti conviene mettiti in più nella possibile poi adesso vieni giù aspetta qua un attimo va dove sei? sono andata dentro perché c'era un'anima mi sembri me prima con la sorella intanto adesso dovrebbe tornare giù questa cosa quando l'ho vista sono rimasto un attimo da fuck eh sì ma cazzo ti gridi ho preso paura cazzo ti gridi ok veloce dentro e anche qua bene il bordo è quello lì non ci fa niente bastardo a me aveva fatto sorpresone ma aspetta cioè ne avevi uno qua dietro la schiena non voglio dirti lo so l'ho visto ma non mi ha toccato io lo si l'ho toccato l'ho toccato tutto visioni di felicità sì è vero c'era anche Diego che era what stia giù stia giù che è tanto comodo un lettuccio carino sei uscito a best a bar o morto Isa lo sai? ma era già morto anche prima che si alzasse non hai tutti i torti cos'era quella roba lì e tira bombe 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 lo tocco dove non batte lo scudo sì ahia bastarde trappola di me giusto per fare bordello ma lei cos'è che ti ha fatto un perry scusa eh? ah minchia non vedevo lo scheletro a parte il fatto che l'avevo fatto io backstab e non lui un perry sì scusami ma che ingegno più avanti ah questa piastrella qui secondo me questa eh yeh eh yeh avverti lui lui fa un cu divertiti tu adesso nooo riavo non mi abbandonare allora per favore ahia mi amarei con le fiaschette più 4 che curano una fucilata mi dica dove andare voglio andare di là che c'è un'animella ma non si può andiamo no non volevo questa con due mani volevo questo aspetta ok si è attivato ma scavano no usano l'anero dell'invisibilità nelle rollate oh cazzo porco giudo no l'ho fatto io apposta invece no dove sei da 10 10 mega in download e 2 in upload recentemente hanno anche messo un profilo da non mi ricordo se c'era qualcosa lì si recentemente hanno messo un profilo da 20 mega ma nella mia antenna ripetitore non è ancora raggiungibile ma sinceramente mi va bene anche solo questa venga venga signora venga che mi sei messa fiasca che piuttosto mi faccio rievocare qua 5 e 4 su un totale di 6 e 4 e allora andiamo indietro ecco forse ti fai rievocare no ho preso tipo un dito di di danni niente di che grazie pallina va bene non mi ha fatto male quando la chiede un mega e mezzo io arrivo a un macchino dove sei qua mi dica che belle celle che avevano comunque qua sorigl ammazzagavaglieri che è solo qui quindi ho che si becca un baxter subito il problema è che quando è sceso a mezzo mega non salve per niente anzi andava aia ma aia aia madonna devo bere immediatamente stia bravo tipo 20 secondi mi dicevo quel cazzo che guardo la live eh mezzo mega ti ringrazio ti ringrazio mi ha sbloccato aspetta eh che te la faccio vedere eh perché io quel tizio non l'ho mica visto perché qua mi ero rifiutato di farla visto che ero morto un paio di volte aspetta eh ce l'ho qua eccola ok tutto andato a parte andiamo prima di qua oh c'è un cosone no è solo era ah ci sono i topini anche ah merda non me l'aspettavo dovevo andare mercoledì stavo leggendo stai attento a su e guarda ecco infatti perché dovevi stare attenta oh mi lascia perdere Isa per levargli cinque a colpo vabbè ma io voglio fare la mia perdita ehi non so se ti sei guardato bad boys non ricordi il numero eh se non mi dici il numero che probabilmente li ho guardati ma sono andato comunque una no guarda chi c'è laggiù già ci sono di nuovo questi stupidini i simpaticoni non stupidini ma merda letteralmente scusa cr 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 al diavolo strunz c'è Will Smith il collega che sono in missione il collega che è in missione nelle foglie ci stanno i ratti sì sì lo so che ce ne sono due qua eh non me lo ricordo assolutamente ah questo è ancora vivo era vivo ce ne è ancora uno qua aspetta scendi c'ho la balestra apposta non andare tanto avanti non andare tanto avanti vieni qua vieni qua stavo cercando di capire se riuscivo a targettarli di qua ma perché devo targettarli? ne attivo uno aspetta 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 faccio io che tanto ho le frecce eh anch'io eh mi sa che tanto vengono tutte e due no lulz sono molto più lente però per fortuna sì mizga quelli là sono mi droppate la vostra arma dai venga qua punk se droppano sta arma veramente è fichissimo c'è ancora uno qui dove cazzo? ah ma di quei cosi pensavo di scheletroni ruotosi sì ce n'è ancora uno davanti oh c'ho nulz e ce n'è ancora uno dov'è? ah era giù 0 l'ho già occhio oh che palle ste cose vabbè facciamo fine ok brave state vicino no ma dai oh mi ha dato una fiasca però ah anche a me non ho capito cosa sta succedendo è come se ti avessero mangiucchiato eh ma io non ce l'avevo addosso ho visto quel collega che si gira e guarda ci sono due rati che indovina cosa fa ma ma come cazzo? eh magari curati immediatamente va? sì mi commento che il collega è Will Smith qua c'è qui un paparatto che si sta facendo un mammaratto lo fanno allora dimmi come questa postazione posso aiutare a svolgere meglio una missione eh devi saperle le cose qua non mi pare che ci fosse invece prego prego ma che palle ho guardato bene i grandi danni eh eh oh faccio quello che apposcia qua è super trap secondo me allora intanto esatto stavo per sparrargli pure quanto li fai con l'altra 29 risparmia al mana risparmia al mana ci sono altre di queste stupidine chiaro sì magari buttugio anche solo l'altra così almeno li faccio tutti insieme e va il diavolo che si risparmia a tempo contando che uno è già morta per ben 44 anime ok ok aspetta aspetta Isa FUSRODA ok puttana allora là davanti siamo andati così quasi si fanno partita veloce a Skyrim occhio alla palina che non so se eh sì no aspetta mi sa che è lontana vai pure mi dica è lei la K le prendo il signorino qua che sta arrivando sì grazie mi dica e sei fermo? adesso sta fermo per un po' ed è tanto che non lo apri mi dica ultimo avvio 30 agosto eh quindi quasi un anno non hanno un po' esagerato ma c'è un titanite semplice e veloce ha fatto rumore di qualcuno che mi ha evocato me lo son sognato no me lo son sognato va bene il ponte sospeso sta per svanire inizia super treppo eccola mi dica eh non è che ci sia tanta roba da dire più che andare su questo ponte non è che ci casca sotto il culo vero? mi tengo come sottofondo intanto ne ho d'un'oretta in caso passi a prototype faccio quello che posso io di qua ora hai capito come sono morto un paio di volte? lisa si perché ok un'altra fiasca io un po' te ne ho segati già ce ne sono ancora qualcuno qua quello lì aspetta ok a posto ce n'è ancora uno ok ho solo più una fiasca te ho una cappola a quel posto lì eh mi sa suggerimento si 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 fanno prendere solo i eh le varie merda che han lasciato esatto cosa c'è qua sopra che non avevo nemmeno visto ok è uno cattivo uno bravo mi vuoi uccidere amico? si si no ma io ti parlo no è l'amico che non trovava l'altro ti ripeto che è una questa tanto bevole che parla ma tu l'hai trovato? il suo amico? devo dire che me ne sono sbattuto un pochino anche però Diego ti spiego avviato schirin accidenti dove sei qua? ma ora che ci penso eh? eh la stradina non l'avevo mica vista giuro non l'ho vista vabbè che tanto arrivo solo fino qua e non vedo se ci sono delle cicce no non è che c'è qualche mistero no eh quindi è una strada inutile è una strada l'Ulz ah ma forse ho capito il perché a cosa serve ma non do l'Ik perché sono l'Ulz prova a distruggere cosa a distruggere? oh cazzo quello proprio quello messaggio di mare mi da un scendio mi da perché mi dici scendi? mi da un po' qua ti dai scendi anche a te sì scendi va bene che fico ok c'è qualcosa qua di qua non si può andare di qua? beh non lo so oh qua c'è una sta prova appunto da tiratore perché oh purk oh cazzo non ci sarà Sigurd ma ci sono io c'hai i braccini troppo lunghi non mi prendi ho anche i miei scheletri anche ah ci sono anche gli scheletri ah l'ho visto grazie per avermelo detto perché se ma li uccide anche lui ok e muori ok anima di un demone anima di un demone ah quindi abbiamo trovato sai che c'erano sai che dal tizio che ti scambia le anime c'è ci sono degli oggetti che vuole proprio anima di un demone quindi adesso l'abbiamo trovato ok questo era totalmente nuovo anche per me quindi proprio e lei cosa fa lì nascosto sotto le erano due lulz no lei non va dalle scale ti proteggo ma quanti che approcci ne sono troppi va ho capito prendo le cicce poi ce ne sgombiamo ok ho dovuto usare l'ultima fiasca io ma c'è ancora giù volendo occhio dietro oh grazie questo me lo targhetta ancora perché me lo targhetta ancora urchezza ok aspetta che gli faccio un backstep ok hanno finito di cagare di cagare ca ok ne ha dato una fiasca intanto perfetto vedi la nebbia qua ahia ah ma c'è ah cosa ti ha dato di bello bendo del saggio eh ma sembra ci sia un falò a vedere oltre la nebbia o ma ci puoi andare tu oltre la nebbia lì no eh allora mi sa che però sì penso ci sia un falò e allora vuoi aspettarmi un attimo no aspetta io se vuoi esco un attimo vengo a prendere ma tu ce l'hai questo falò eh no devo venirlo a prendere però lo vengo a prendere e mi faccio evocare qua piuttosto ok così almeno è un po' più corto ti riprendi le fiasche e tutto se vuoi va bene allora cristallo neo questa mi mancava anche perché un ponte già pericolante va ancora a distruggerlo ma perché? perché te lo dice un messaggio semplice no? da quando è che ascolti così bene i messaggi tu? da sempre tu drug soul proprio sì allora io però sono già avvantaggiato che ho il falò questa qua si chiama tomba abbandonata il falò magari ce l'hai già ma ci sono no 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 non credo perché quello me lo ricorderei infatti non c'è ma non dovrei tardare tanto solo il demone quello infoccato lì vuoi una mano? ma figurati anche perché non potresti ho già segato il boss anche volendo quindi tu hai semplicemente tirato al al falò sì 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 scendi per favore ponte smetta di tremare scendi grazie chi cazzo mi aveva pensato di usare un ponte come scala così un dudo tiratore cazzo fuliolo bravo picchiare lo scheletro così non rompere balla a me wow aia ah ma gli scheletri picchiano anche il demone che f***o ah sì sì stanno picchiando c'è uno scheletro che gli sta lo sta devastando lascialo allora no questa è questa è esploso letteralmente ecco di terzo sei cioè io gli faccio 312 lo scheletrino lì comunque gli levava un 150 cazzo madonna ma quasi l'ho shottato ti rompo il culo strunz l'anima di un demone ah questa è bella 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 grande isa che va a distruggere i ponti per scoprire le cose strane ebbene sì rompi i ponti allora dove sono le cicce allora per rompere le scatole non era più sufficiente avevo bisogno di qualcosa di più sostanzioso allora gli scheletrini visto che tanto sono in infinità andata al diavolo anche se sono un po' tanti adesso che rompono le balle beccati questo vabbè fottiti l'anello della strega anche vuoi dirmi che l'anello della strega non ti interessa non so cosa faccia penso proprio di sì ma giudicare dal nome penso che ti interessi pareccio no? già ma dalla porta lì dall'altra parte del falocco tiratore più avanti qui già guardate cosa c'è di là o? no non ancora sono tornata un attimo a casa ma tu guarda c'è un'altra location tutto grazie questa me la sarei mancata totalmente vado a fare una livella anch'io e ci sono avanza di livello nonché se cominciano a costare però oh ma è vero aspetta fammi vedere perché adesso ho l'anima del demone mi pare che stavo guardando esattamente quello dava qualcosa di simpatico non fa da quell'ascia lì che ha la specialità che fa la fiammata anima ascia pesante oh i pugni demoniaci i pugni poi i pugni nelle mani quello lel ma quasi quasi prendo la grandine cristallizzata col saggio di cristallo io mi sa che quell'anima adesso la metto ancora nel forzierone del falò e poi ci pensero quando mi servirà ovvero mai perché mi dimentico ora di avere quell'anima come giusto che sia perché sono uscito dovevo fare viaggia viaggia tomba abbandonata brava 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 allora mi metto lì fuori dal sì sono ancora un attimo a casa ah non si può mettere il simbolo qua dove si può mettere il simbolo ah non si può mettere il simbolo eh vabbè scienza tu basta che corri su un giorno o l'altro si potrà mettere vero no ma sai cos'è mi sta arrivando un po' di mali testa così quasi ti lascio continuare da solo eh ma tanto poi c'è un'inculata sai Isa non andare da quel falò non torni indietro si ricrea il ponte no purco Giude vabbè ti ho risparmiato loro un po' di corse un po' di scheletroni per rompere le valle eh ma adesso non so se continuare questa location o no accidenti maledetta Isa che trova i posti nuovi colpa tua ma tu non sei ancora morto vabbè buona continuazione ragazzi allora buonanotte Isa ok ciao a tutti ciao a domani ciao ciao mmmm di qua o dall'altra di qua o di qua qua o di vuoi vedere una cosa solo perché mi pare perché ho detto oggi infatti che c'era qualcosa qua davvero stronzi, aggiungo, perché è veramente da figli di putt guarda la cosa c'è, si vede già da qua ok, minchia lo zoom, lo chiamavano zoom da bambino questo binocolo il problema è che è da veramente stronzi, quindi allora, un momento, scendiamo tutto c'è una paura però ho anche queste che servono apposta porco giuda ah, cazzo sì porco cagno, si vede un cazzo minchia, questa qua è veramente da figli di puttana questa è veramente da stronzi questa è veramente da figli di puttana non so quanto va avanti sta girando che so ne ho ancora quattro dai c'ho un faiuro minchia se sono veramente bastardi ah ma c'è un muro senti ah ma è proprio ma c'era proprio la bastardi che figli di putt accendi solo sto fallo e lei mi chiede mi chiede mi chiede mi chiede mi chiede Grazie a tutti. Sì, ma c'ha i braccini di... Ma non posso rispondere? Perché non posso rispondere? Sì, ma c'è un po' giù da... Sì, ma c'è un po' di guardiani dei dipinti! Tutto il set dei guardiani dei dipinti! Siamo ancora altre cicce? No, non c'è nessun altro oggetto. Allora scendiamo molto più tranquilli. Ciao! Non è il binocolo! Destina di cà! Ah, ma sono qua! Quindi il posto l'ho trovato. Però è da bastardi. Il succo. E' quello. Allora... Non so se continuare di... Ma sì, continuiamo di qua. Il lago nuovo, un nuovo. Aspetto magari domani o... ...la prossima volta. E' morto Gmail che non risponde più ping? Di solito quando succede muore anche la live. Ma quanto pare la live va... E' morto Gmail in questo caso.